Sorpresa delle sorprese, Valle Spaziali 2 è ufficiale, lo fanno per davvero. Per tanti anni è stata una sorta di leggenda metropolitana, ma adesso, assunto i contorni della concretezza, si fa. La prima domanda che nasce spontanea è ma Mel Brooks, insomma, comincia ad avere l'età di Matusalemme e noi ovviamente gli auguriamo di rimanere in nostra compagnia ancora per centinaia di anni. Ma è legittimo chiedersi fino a che punto sarà coinvolto. Ebbene, lo troveremo nelle vesti di produttore, cosa che dice tutto e niente al contempo. Per quanto riguarda invece le persone che lavoreranno in modo più concreto, più diretto al film, ci sono dei nomi tutto sommato interessanti. Iniziamo da Josh Gadd, che sarà cosceneggiatore, produttore e parrebbe attore protagonista o comunque presente in un ruolo maggioritario. E tenetelo a mente il nome di Gadd, perché potrebbe essere rilevante per fare ipotesi e speculazioni in merito alla presenza di un certo Lord Casco. ma ci arriviamo strada facendo. Abbiamo poi il regista. Il regista è Josh Grinbaum, che a dire il vero non è che abbia fatto chissà che cosa. di certo non è particolarmente conosciuto. Recentemente però si è occupato di un film che in Italia non ha avuto il benché minimo riscontro. Non credo che sia stato un successone, ma almeno a livello di critica mi sembra che non fosse stato ricevuto e recepito malissimo. Io però controllo prima di dirvi una fesseria. Il film in questione da noi è noto come Doggy Style. Il titolo originale è Strays e vedeva questi cani parlanti, concetto che spesso associamo a film per bambini o per tutta la famiglia, essere molto politicamente scorretti. Poteva vantare su un cast di doppiatore interessante, Will Ferrell, Jamie Fox, e in effetti purtroppo sono caduto in fallo perché la critica l'ha abbastanza detestato, mentre il pubblico poco sembra averlo tutto sommato gradito sulla base delle percentuali che trovo su Rotten. Quindi parliamo di una commedia strettamente demenziale, cosa che ben sintona tutto sommato con la regia di Valle Spaziali 2. Però se vi attendevate un lupo di mare con un'esperienza inaudita alle spalle, non è questo il caso. Diciamo che si punta più sui giovani, sulle nuove proposte. Gli sceneggiatori forse sono più rilevanti perché abbiamo la coppia, il duo, composto da Benji Summit e Dan Hernandez che negli ultimi anni hanno scritto le sceneggiature di speciali di Star Wars a tema Lego e sappiamo che questi medio-cortometraggi Lego sono molti improntati sulla comicità. Detective Pikachu che per quanto mi riguarda, togliendo dall'equazione Arcane, che è una serie, è tutt'oggi la miglior trasposizione videoludica mai fatta? Sì. La famiglia Adams 2 sinceramente non ho mai seguito questa nuova riproposizione animata della serie TV in bianco e nero, però sempre di risate si parla e poi ultima ma non ultima la sceneggiatura di Tartarughe Ninja Chaos Mutante che a me non è piaciuto per nulla. Però bisogna contestualizzare questa mia mancanza di gradimento. Come film sulle Tartarughe Ninja credo sia alquanto terribile come film dall'impostazione umoristica alcune gag erano veramente puerili e forse adatte a un pubblico di bambini, altre erano già più sofisticate e divertenti. Diciamo alti e bassi. Non mi sento di dirvi che siamo in una botte di ferro per quanto riguarda le persone associate a balle spaziali 2. Però come al solito un giorno sbagliato in ufficio può capitare e persone diverse associate a progetti diversi possono performare in modo bravi diverso. Ma torniamo a Josh Gad perché balle spaziali 2 quali attori torneranno? Rivedremo Bill Pullman sfortunatamente John Candy direi che è fuori discussione ma soprattutto Rick Moranis Lord Casco oserei dire fondamentale come si può immaginare un balle spaziali 2 senza di lui. C'è quel piccolo dettaglio però ovvero il fatto che il signor Moranis si è ritirato dalla recitazione da decenni. Ma torniamo all'affare Josh Gad perché non so bene che fine abbia fatto questo progetto magari è stato travolto dalla pandemia dallo sciopero dal cambio di gestione in casa Disney e voi direte ma la Disney che c'entra balle spaziali? Ma qualche tempo fa si era parlato di un rilancio della saga di Tesoro mi si sono ristretti ragazzi e in questo film Josh Gad sarebbe stato il protagonista ma sarebbe tornato anche non si capiva bene con quale minutaggio proprio Moranis Josh Gad avrebbe interpretato il figlio del personaggio di Moranis ormai cresciuto quindi c'è già stato un contatto tra questi due attori in quel caso sembrava essere fattibile ora volete vedere che forse 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 Moranis lo convincono almeno ad apparire cinque minuti posto che per me dovrebbe essere ancora una volta il cattivo principale ma mi rendo conto che potrebbe non averne alcuna voglia ma per una sequenza due tre perché secondo me deve esserci dai balle spaziali due con tutti i personaggi nuovi non so quanto sarebbe efficace ma dopo aver parlato del progetto in singolo che allora appare senz'altro un po' bislacco perché fuori tempo massimo e dire poco non so neanche se il pubblico di oggi sappia cos'è balle spaziali perché vi dico questo soggettivamente parlando non è tra le mie parodie preferite di tutti i tempi neppure di Mel Brooks sono cresciuto di più con Dracula morte contento Robin Hood un uomo in calzamaglia paradossalmente anche Frankenstein Junior balle spaziali sì però per via di circostanze forse l'ho conosciuto troppo tardi non me lo porto dietro come cult imprescindibile ma queste sono le mie personali paturnie dobbiamo capire e valutare se al giorno d'oggi ci sarebbe un pubblico pronto per accogliere a braccia aperte un film similare probabilmente la campagna marketing sarà di assoluta importanza sotto questo aspetto io non lo intitolerei neanche balle spaziali due bensì balle spaziali sottotitolo per far credere un po' che si tratti di una nuova proposta di un qualcosa che non richiede una conoscenza pregressa altrimenti credo che si taglierebbero tre quarti del potenziale bacino d'utenza ma questa è la singolarità se noi come al solito diamo un'occhiata al contesto più ampio ci rendiamo conto che ultimamente Hollywood sta cercando di riportare in auge la commedia demenziale con questo film ma anche con il reboot di una pallottola spuntata con protagonista Liam Neeson e qui non ricordo bene se ci fosse l'ufficialità o se si trattasse più che altro di voci di corridoio ma in tempi recenti si è parlato anche della possibilità di rinvigorire la saga di Scary Movie e secondo me è questo l'aspetto più peculiare di colpo senza che immagino si siano messi d'accordo abbiamo tre rilanci di saghe nel caso di balle spaziali era un solo film ma ci siamo capiti legate al genere demenziale un genere che possiamo dirlo negli ultimi dieci anni e forse più al cinema è scomparso e le ultime performance non erano neanche eccellenti ha senso provarci in un momento in cui le sale sono abbastanza in crisi e si cerca a tutti i costi di tirare di lustrare di mettere a lucido delle saghe del passato mancava solo questo forse la nostalgia questo fattore importantissimo poi come vi ho detto probabilmente i vari produttori non si sono parlati ci sono delle circostanze in cui una singola idea comincia a circolare nell'ambiente e attecchisce da più parti un esempio due film animati in contemporanea con protagonista una formica oppure nel mondo dei fumetti gli X-Men e la Doom Patrol che nascono e si sviluppano in contemporanea con questo gruppo di personaggi outsider capeggiati da un leader sulla sedia a rotelle potrebbe essere un caso simile questo bisognerà capire se c'è un terreno fertile di certo non parliamo di film dal budget altissimo però il rischio c'è tutto e se dovessi puntare oggi sono un po' scettico sulla resa sia qualitativa che quantitativa però ovviamente il beneficio del dubbio lo riserviamo e seguiremo questo film e tutti gli altri con grande interesse